Poi oggi è la giornata, lotteria degli scontrini, il cashback, insomma tante cose che poi insomma sulle quali... Eh? Buona idea? È fantastico! No, beh sì, è ironico o no? Ma insomma, per carità, ho visto di peggio, quindi va benissimo, però chiaramente non sono misure risolutorie sul cashback, si è fatta molta retorica. Cioè uso la carta di credito e qualche soldino mi torna, no? Dico delle spese fatte con la carta di credito invece che col contante. Sono comunque incentivi troppo contenuti, perché sappiamo che non si può arrivare a più di 150 euro, cioè non sono sufficienti a spostare i comportamenti. Sono sicuramente sufficienti a spendere 3 miliardi di euro che avrebbero potuto essere usati in un altro modo. Quello è certo. Sul fatto che siano in grado di spostare i comportamenti degli alieni è più difficile, perché quando fai i super bonus incidi. Quando fai i bonus incidi, l'unica cosa certa è la spesa, non il ritorno purtroppo.